La Camera di Commercio di Bolzano festeggia i 20 anni della giornata dell'innovazione. Esperti ed esperte del mondo scientifico ed economico hanno discusso delle innovazioni di cui la società ha bisogno per raggiungere uno stile di vita ed un'economia sostenibili. Con questo evento ogni anno abbiamo cercato di approfondire certe tematiche, certi aspetti dell'innovazione e abbiamo anche cercato di fornire a partecipanti qualche suggerimento pratico per innovare con successo nella propria azienda. Ora, dopo 20 anni, il tema dell'innovazione è più importante che mai perché stiamo davanti ad una grande trasformazione verso un'economia, verso uno stile di vita più sostenibili e per affrontare con successo questa grande transizione c'è bisogno di innovazione, non solo di innovazione tecnologica ma soprattutto anche di innovazioni sociali. Le trasformazioni tecnologiche, sociali e culturali sono state il tema dell'edizione 2022 della giornata dell'innovazione. La nostra economia e le nostre aziende hanno un importante impatto sul raggiungimento degli obiettivi di ecologia della Unione Europea. Hanno anche una forte emissione di CO2 e pertanto è importante che facciano qualcosa. Dall'altro canto devono pensare in modo economico, devono raggiungere degli obiettivi di profittabilità. In questo dilemma le tecnologie digitali possono aiutare perché aiutano a raggiungere sia obiettivi economici che obiettivi ecologici. La professoressa Marion Weissenberger-Ebil, Thomas Zanon, agronomo e agricoltore, Andreas Loacher della Loacher di Auna di Sotto e Lucia Simonato di Viewort Italia hanno analizzato il tema della giornata secondo diversi aspetti. La giornata dell'innovazione, evento che è diventato uno degli appuntamenti più apprezzati da imprenditori, imprenditrici, rappresentanti della pubblica amministrazione, associazioni di categoria, scuole superiori e istituti di ricerca dell'Alto Adige.